Il piano sanitario regionale per il Movimento 5 Stelle è un bel libro dei sogni senza specifiche né per quanto riguarda i tempi né per quanto riguarda le risorse. Sì, purtroppo mancano anche tante altre cose che avremmo voluto vedere scritte su questo piano programmatorio. Dovrebbe fare una programmazione che è l'organizzazione della sanità sul nostro territorio per i prossimi tre anni. Purtroppo non si parla di prevenzione che dovrebbe essere una delle voci su cui si investe prioritariamente proprio per garantire la salute dei cittadini e poi anche per effettuare delle misure di risparmio su quella che è la spesa pubblica sanitaria. L'altro grande assente purtroppo da queste pagine di questo documento è tutto quello che riguarda il personale, il personale sanitario, il personale medici, quindi infermieri. E purtroppo c'è una grandissima emergenza in Viguria nelle nostre strutture laddove gli operatori sono spesso costretti anche a fare dei turni massacranti che vanno a incidere direttamente sulla qualità del servizio e le possibilità di erogare il servizio, quindi di assistenza. Questa è una cosa gravissima a fronte del fatto che invece la Giunta Totti l'unica cosa che ad oggi pare abbia fatto per la sanità è quella di creare questa sovrastruttura, un'ulteriore azienda sanitaria che sarebbe Alisa che dovrebbe governare le cinque ASL che a quanto pare la Giunta Totti reputa mal governate fino ad oggi, quindi ce ne mette una sesta e questo implica che cosa? La creazione, la proliferazione di nuove poltrone, quindi nuovi posti apicali molto costosi per la spesa pubblica e che ad oggi sinceramente dopo due anni e mezzo di governo Totti e questo documento che è assolutamente manchevole e non risponde a quelle che sono le esigenze del territorio, cioè ad esempio la grande presenza di anziani sul territorio che quindi comporterebbe tutta una pianificazione del lavoro nel senso di andare a fare assistenza per le malattie croniche ad esempio, non viene tenuto conto in nessun modo di tutto ciò che invece era stato studiato e analizzato bene dalla stessa Giunta Totti nel cosiddetto libro bianco della sanità, quindi prima è stato fatto un piano con tutte le analisi dove venivano anche scritti quelli che dovevano essere poi i posti letto destinati alle varie zone del territorio Ligure e invece sul documento primario che è questo del piano sanitario di tutti questi dati di fatto non se ne fa nulla, l'unica cosa che viene specificata e sbandierata dalla Giunta Totti, come se fosse la soluzione, la panacea di tutti i mali, è questa esternalizzazione di strutture ospedaliere, di ospedali del ponente Ligure in particolare, cioè la privatizzazione di ospedali pubblici o di reparti pubblici, che di fatto noi non siamo riusciti a capire anche nelle nostre giornate di consiglio, l'ultimo consiglio durato 11 ore e mezza, non siamo riusciti a ottenere una risposta a un dibattito democratico che spiegasse in qualche modo in come un ente pubblico come la Regione possa trarre un qualche beneficio nell'abdicare verso degli organi esterni privati quello che è il servizio sanitario pubblico, quindi significa che questi signori della Giunta Totti se ne lavano le mani di quello che poi succede, quel che ne è poi della prestazione del servizio sanitario pubblico. Ad esempio è il caso dell'ospedale Villa Scassi. In questo caso si annuncia quindi un ridimensionamento, un declassamento dell'ospedale che da pronto soccorso diventa un semplice punto di primo intervento, quindi dove possono essere curati soltanto casi meno gravi. Se noi andiamo a vedere, sotto questa stessa direzione giunta regionale e quindi tutte le asle del caso, sono state fatte delle opere di ristrutturazione dell'ospedale Villa Scassi lo scorso anno per cifre molto elevate, parliamo di 2.144.000 euro per una ristrutturazione che riguarda il centro ustionati che tra l'altro è un centro di eccellenza, il Villa Scassi, e poi altri ulteriori ad agosto di quest'anno proprio oltre 300.000 euro per completare degli adeguamenti relativi alla sicurezza, alla messa in sicurezza. Tutto questo di fatto non servirà a nulla, perché cosa succederà? Il centro ustionati verrà trasferito di fatto al San Martino, quindi viene svuotata di questa funzione tra l'altro d'eccellenza del Villa Scassi e anche tutte le attività di laboratorio su cui peraltro il San Martino si appoggiava a Villa Scassi verranno poi fatte altrove. Saranno 20-30 anni che si parla dell'ospedale di Vallata che non è mai arrivato e non sta ancora mai arrivando perché con questo affrettarsi dei tempi, tutte queste dichiarazioni, questo piano sanitario chiaramente non ci sono le tempistiche sufficienti per garantire una sostituzione nel frattempo fin tanto che tutte queste attività vengono trasferite nella zona di Ponente intanto che si aspetta questo fantomatico ospedale privato degli Erzelli di cui ancora non si sa nulla e che sicuramente non sarà pronto entro il 2019 quindi qua bisognava prima fornire la soluzione alternativa e poi secondariamente iniziare eventualmente a fare trasferimenti e quant'altro mentre rimane totalmente inespressa una risposta all'ovvio quesito del perché è stato investito così tanti milioni di euro pubblici per queste ristrutturazioni se poi il destino che l'Aggiunta Totti ha disegnato per la sanità e per il Villascassi in particolare è questa.